Tu, dove ti senti? Abbastanza bene, grazie! Non ho capito! Mi trovo abbastanza mio agio, signora! Mi vuoi dire che non hai nessun problema psicologico? Adesso che ci penso, ho molta paura del giudizio degli altri! Cosa ti trattiene? Soffro di ansia da prestazione! Ne voglio ancora! Quando mi guardo allo specchio non mi piace quello che vedo! È tutto quello che hai da dire! Se qualcuno mi dice che un pantalone mi sta male, probabilmente non lo mettono mai più! Tu devi imparare ad amare te stesso! Soltanto così sarai felice! Riposo!